iscrizione al canale gratis e campanellina e poi ho visto in giro delle promozioni a 9 euro al mese quattro due diligence lazuli bertarelli zangara doppia e digital beats tutto ok tutto questo a 9 euro al mese signori accorrete numerosi a parte questo stasera dopo la partita avrò divix come ospite io davide lo stimo molto a livello calcistico per me uno dei youtuber più bravi in assoluto ovviamente trattando il tema interista il tema dell'inter quindi stasera dopo la live scusate dopo la partita faremo una live con con divix il grandissimo divix che ripeto io stimo molto soprattutto a livello calcistico avevo già fatto una live con lui l'anno scorso poi anche lui ci sono stati dei dei malintesi perché lui ha parlato di di canali che parlano di arabi era stato frainteso quindi insomma si voleva un attimino anche lui voleva chiarire un po la situazione oltre di oltre parlare di calcio è la cosa che lui sa fare meglio secondo me e ma gli almona winter ho letto che potrebbe esserci un bel turn over sono totalmente d'accordo è giusto in una partita importante così di solito chi soprattutto è stato fuori da tanto tempo da il mille per mille quindi bene se bene se gioca gosens bene se gioca slani bene insomma che riposino sempre riposi chi è chi tira sempre la carretta che giochi chi ha giocato un po meno risultato ci interessa fino a un certo punto perché sappiamo tutti che anche se la palla è tonda bayern monaco è di due categorie sopra noi la squadra più forte del girone molto più forti anche del barcellona veniamo alla nota dolente lukaku ragazzi per ora il ritorno di lukaku è un flop cioè c'è chi diceva che era già pronto due mesi fa io non lo so cosa guarda se guarda il tennis il bullying lukaku ha dei problemi fisici è un calciatore è un calciatore che comunque abbina potenza a fragilità perché se vi ricordate quando quando fu preso dal manchester united era veniva da una novantina di giorni di stop e lui come state dicendo anche tutti voi il suo meglio lo ha dato nei due anni di parrucca e di quintus quindi incomincia avere 30 anni comincia avere troppi problemi fisici romelu per ora mi dispiace ma il tuo ritorno ad oggi cioè se dobbiamo valutare i primi sei mesi il tuo ritorno è stato un flop mi dispiace dirlo ma è purtroppo l'ecco sì quindi per riscattare un giocatore o me bega se si parla di 60 70 milioni io ci starei attento e lo adoro romelu però ragazzi problemi fisici cominciano ad essere troppi poi vedi sono operazioni che fai mettendo la dignità da una parte perché non hai i soldi ma è comunque un'operazione lukaku ti costa 22 milioni quest'anno tra ingaggio prestito e quant'altro quindi sono comunque delle operazioni esose che devi fare perché non avevi più una lira e poi vedi poi come va a finire quindi ad oggi romelu non ci siamo io io ero un po scettio sul tuo ritorno ma non per un discorso che che non ci hai salutato più che quello ero proprio scettio per un discorso e mi costa dirlo proprio perché sapevo e non c'era parrucca e pintus e so che hai dei grandi problemi a mantenere il peso anche perché lukaku è molto più pesante di quando c'era conte e pintus quindi è predisposto anche a infortunarsi di più è un giocatore basa tutto sulla condizione fisica se non sta bene romelu l'abbiamo detto mille volte diventa un pallo della luce e diventa un punto di riferimento eccezionale per i difensori avversari quindi mi dispiace romelu sicuramente è colpa tua però ad oggi questo ritorno questo ritorno all'inter fa quella a tutte le parti sicuramente anche il celsi sarà preoccupato perché un anno e mezzo fa ha investito 115 milioni la patata bollente solamente non spetta a noi perché alle brutte l'inter butta vivamente i milioni loro da celsi però io non vedo non vedo quella cura e l'attenzione su lukaku soprattutto per quello riguarda il potenziamento perché a livello muscolare ci stava molto attento pintus no a non sovraccaricarlo c'era faceva degli allenamenti particolari qui non lo so ragazzi speriamo bene ma vediamo cosa fa il mondiale no ora hanno detto non è nulla vediamo se non è nulla non è nulla come come due mesi fa che doveva giocare è un giocatore incomincia avere troppi problemi fisici e a noi ragazzi a gennaio serve un attaccato che un attaccante a questo punto perché cioè dove vogliamo andare con lautaro lukaku e gecko lo stesso gecko ha qualche problemino quindi la rosa è corta soldi non c'erano dove volevi andare coi cinese ci vediamo stasera dopo la partita ciao inter grazie grazie grazie